Bentornato Goodlier, bentornata. Continuiamo con il discorso legato ai configuratori. Ora descriviamo il configuratore del sito Tecnocomputer direttamente da questo link. All'apertura della pagina web, al centro e basso, trovi un pulsante Configura il tuo computer per accedere al PC Configurator. In alternativa, potrai accedere al configuratore direttamente da questo link. C'è da fare una precisazione che in questi giorni il sito Tecnocomputer sta cambiando grafica, quindi potresti trovare una grafica diversa rispetto a quella che vedremo adesso nel video. Quella che vedrai in realtà è quella definitiva. Quando ti apri il configuratore, cliccando sul pulsante Start, inizierai a generare la tua creatura. Eccoci qua, nella pagina dei risultati di ricerca organica di Google per la voce Configuratori PC. Andiamo a vedere ora il configuratore del sito Tecnocomputer. Cliccando sopra la seconda voce, in questo caso, si aprirà la pagina Tecnocomputer Italia. Scorrendo un pochino, troverai il pulsante Configura il tuo PC. Premendo su Start, si avvierà la procedura, o meglio, si accederà nella sezione del configuratore. Eccolo qua. Premendo di nuovo su Start, entreremo proprio nella selezione dei vari componenti. Qui, a fianco, sul lato sinistro, trovi la finestra di controllo, che ti notificherà di volta in volta la condizione del configuratore, ossia quanti componenti hai già selezionato. Sotto trovi una leggenda che permette di evidenziare lo stato del configuratore. Infatti, se questa icona del computer è colorata in blu, vedrai che è in composizione il componente selezionabile. Se è colorato in verde, significa che il componente è stato selezionato in maniera corretta. Se invece questa icona sarà rossa, sarà presente un errore nella configurazione. E quindi dovrai modificarla. Nella zona centrale, trovi tutta la lista dei vari componenti. Sul lato destro, trovi il prezzo ivato già e la quantità da selezionare. Cliccando sul pulsante Dettagli, si aprirà una nuova scheda, nella quale troverai evidenziati tutti i dettagli del componente che stai visionando e che eventualmente selezionerai. Possiamo chiudere e selezionare uno di questi alimentatori. Tra l'altro, vediamo anche la disponibilità dei componenti che andrai a visionare o selezionare, qualora fosse previsto anche un arrivo in prossima data. Una cosa importante c'è da dire riguardo il vattaggio. Se il vattaggio, ossia la capacità di potenza dell'alimentatore, non è sufficiente ad alimentare tutti i componenti interni, il PC verosimilmente non si accenderà. Per cui dobbiamo trovare un equilibrio, senza andare troppo in alto, ma senza accendere troppo in basso. Diciamo che un valore intorno ai 500-600 Watt è più che sufficiente per la maggior parte dei computer. Andiamo a visionare questo componente. Qui abbiamo un alimentatore ATX della potenza di 600 Watt. Potrebbe andare bene. Selezioniamo quindi questo componente. Ora, scorrendo verso il basso, andiamo ad individuare il cabinet utilizzabile per il tuo computer. Vediamo i dettagli di questo cabinet. Il cabinet è un cabinet che supporta un alimentatore e una scheda ATX con alcune caratteristiche sul frontale. Tutto sommato, rientra nelle nostre possibilità. Ecco, anche qui possiamo vedere che permette di alloggiare anche delle micro ATX come scheda amate. Per cui lo possiamo senz'altro selezionare. Scorrendo ulteriormente verso il basso, andiamo a trovarci il pulsante per proseguire. E qui puoi trovare, infatti, già selezionato il cabinet con l'alimentatore ad un prezzo parziale di 63€. Ora andiamoci a selezionare il processore. Stavolta andiamo a visionare un Pentium, magari. Qui abbiamo selezionabile un Intel Pentium Dual Core. Vediamo i dettagli di questo processore. Qui abbiamo un processore Intel con velocità di 2,6 GHz e uno zoccoletto LG 1155. Della marca Intel. Nota anche la garanzia fornita dal venditore. Direi che tutto sommato questo potrebbe andare bene e quindi ce lo selezioniamo. Scorriamo sempre verso il basso. Cliccando su avanti andremo a visionare che il processore si è correttamente inserito nella zona. Ora andiamoci a selezionare il dissipatore. Nota la caratteristica di questo processore. Un socket LGA 1155. Andiamo adesso a scorrere e selezioniamo il dissipatore che supporta questo processore. Ecco qua. Potrebbe essere valido. Andiamo a vedere le caratteristiche. Ci conferma la compatibilità con il socket 1155. Per cui lo possiamo anche selezionare. Tornando un po' su, io direi mettiamoci anche una pasta termica per far aderire meglio il dissipatore sul processore. Questa potrebbe essere sufficiente pasta termoconduttiva. E quindi la possiamo selezionare. Ora selezioniamo magari un accessorio che permette di far alloggiare il dissipatore sul processore. Ecco qua, questo è il kit di montaggio. Sempre il socket 1155. Per cui lo selezioniamo. E scorrendo verso il basso ci andiamo a trovare il pulsante per proseguire. Adesso andiamoci a trovare la scheda mate. Il filtro ha funzionato come abbiamo visto nel precedente caso. Infatti visionerai soltanto schede mate che presentano una compatibilità con lo zoccoletto del processore. In questo caso LGA 1155. Andando a vedere i dettagli di questa scheda. Senza perdere molto tempo adesso nell'opera descrittiva. La cosa importante è visionare la compatibilità come dicevamo prima con lo zoccoletto. Per cui selezioniamolo con rapidità e scorrendo verso il basso andiamo avanti. Ora è il turno delle memorie. Diciamo che possiamo accontentarci di un 2 o 4 GB di memoria. Prendiamo ad esempio questo TIT. Andiamo a vedere i dettagli. Qui abbiamo un kit doppio di 2 GB, quindi 4 GB, con caratteristiche DDR3 e velocità di 1333 Hz. Direi di selezionarlo. Andiamo avanti. Vediamo se c'è qualche errore nel configuratore. No, possiamo proseguire tranquillamente. Ci piace questo hard disk da 500 GB? Andiamo in dettagli. Qui abbiamo un SATA. SATA è il tipo di interfaccia dell'hard disk. La velocità di rotazione è 7200 giri al minuto. Questa è la memoria periferica dell'hard disk. E questo è il valore di capacità, 500 GB, della marca Western Digital. Direi che va più che bene. Dopo averlo selezionato andiamo avanti. E proseguiamo con l'unità ottica. Prendiamoci il primo che capita. Un masterizzatore DVD. Masterizzatore DVD, ovviamente anche CD. al prezzo di 19 euro. E queste sono le caratteristiche di questo lettore masterizzatore. Dopo averlo selezionato, proseguiamo nella scelta. Ora andiamo a selezionare la scheda video. Questa da circa 40 euro. Andiamo a vedere le caratteristiche. Qui abbiamo un gigabyte, vedi, di memoria propria, dedicata. Per cui direi senz'altro che può andare proprio bene. Visto che per il momento non dobbiamo fare grandi cose, ma solo per capire come funziona il configuratore. Quindi, dopo averla selezionata, andiamo come al solito avanti in fondo per proseguire. Da questa pagina potremmo anche selezionare la scheda audio, ma guarda bene una cosa. Andiamo a vedere le caratteristiche della mainboard. In questo caso, se scorri le caratteristiche, troviamo già presente una scheda audio integrata. Per cui, sostanzialmente, non è il caso di acquistare qualcosa che per il momento non ci serve, quando comunque potremo farlo in seguito. Quindi, passiamo oltre questa pagina direttamente. Qui addirittura possiamo selezionare il modem, ma tutto sommato non è il caso di proseguire con questa selezione in questo momento. Il floppy, nemmeno a pensarci. Se vuoi, puoi selezionare il mouse, come puoi vedere bene, questo configuratore è totalmente completo. Quindi potremo selezionare tranquillamente questo mouse wireless. Diciamo che andiamo a fiducia per il momento. La tastiera, anche qui, visti i prezzi, ne prendiamo una sostanzialmente a caso. Avanti, con una nuova selezione. Qui puoi selezionare il sistema operativo. Per il momento non ci interessa e andiamo avanti tranquillamente. Oppure altri software, lo stesso. Andiamo avanti. Qui puoi selezionare anche eventuali ventole aggiuntive, che potrebbero ritornarti utile, qualora con il tempo notassi un eccessivo innalzamento della temperatura interna. Proseguiamo tranquillamente. Avanti. Vogliamo comprarci anche il monitor? Perfetto. Questo 19 pollici. Andando magari a vederci le caratteristiche, che qui potrai leggere tranquillamente. Andiamo avanti nella selezione. Al termine verrà richiesto eventualmente il servizio di assemblaggio. Ma direi per il momento non lo richiediamo. Ecco qua. La lista completa dei componenti che costituiranno il tuo PC ad un prezzo competitivo di circa 400 euro. Ora dovrai stampare, andare nei negozi ad acquistare, oppure ordinare online. Ma passiamo ad un altro configuratore. Termino ora questa corposa descrizione, necessaria per rafforzare il concetto, con il terzo configuratore dal sito GigaPC, accessibile direttamente da questo link. Nella pagina di apertura troverai la voce Configuratore PC sulla colonna di destra. Cliccandoci sopra si aprirà la sezione per avviare la procedura. In alternativa potrai cliccare su questo link che ti rimanda a tale pagina direttamente. Allora, come detto, andiamo a vedere l'ultimo della serie di questi configuratori dal sito GigaPC. Cliccando su Inizial Wizard si aprirà una nuova finestra all'interno della quale possiamo selezionare due opzioni. La prima fa in modo tale che il configuratore evidenzi soltanto i componenti presenti nel negozio, ossia disponibili. La seconda evidenzierà tutti i componenti che sono vendibili nel negozio anche se non disponibili attualmente. A scopo formativo possiamo senz'altro selezionare la seconda opzione ed iniziare il wizard di configurazione. In questa sezione, come potrai vedere, abbiamo al centro una descrizione sommaria di tutti i componenti venduti da questo negozio. Alla sinistra trovi evidenziata un'immagine del componente, alla destra ci sono tre colonne, la prima delle quali rappresenta il prezzo, la seconda permette la selezione del componente da acquisire e la terza evidenzia la disponibilità del pezzo in base al colore. Ovviamente il rosso non è disponibile, ma posizionandoci con il mouse sopra possiamo evidenziare quando e se sarà disponibile il componente. Tutti gli altri componenti verdi ovviamente avranno piena disponibilità, come in questo caso consegna uno o due giorni. Nella zona centrale puoi trovare evidenziati, come abbiamo detto, le caratteristiche. In questa prima sezione troviamo le caratteristiche del processore AMD con socket AM3. Scorrendo puoi trovare gli altri processori AMD socket FM1 o più avanti Intel socket 1156 LGA, socket 1136 LGA e così via. Cliccando sopra l'immagine di un componente si aprirà una nuova finestra all'interno della quale potrai evidenziare le caratteristiche di questo componente. Dopo aver visionato le caratteristiche possiamo chiudere questa finestra e selezionare quello che più ci piace. Diciamo da selezionare questo dual core a 64 bit con una velocità di 3 GHz del processore. Cliccando sulla scheda tecnica il processore selezionato, come possiamo vedere, è un AMD Athlon 2 dual core con socket AM3. Premendo sul pulsante successivo andiamo a selezionare un nuovo componente, in questo caso la sezione dei dissipatori. Ricordiamoci che il nostro processore ha un socket AM3. Proprio il primo già presenta queste caratteristiche, quindi qui la scheda del prodotto ci dà pieno conforto sulla compatibilità con il socket AM3. Bene, quindi è la volta della scheda madre, come puoi vedere i filtri hanno funzionato correttamente e evidenzierai soltanto schede madri con socket AM3. Andiamoci a vedere questa scheda madre. La descrizione ci dà pieno conforto sulla compatibilità con il socket AM3 e la CPU AMD. Al centro puoi trovare un'immagine di quel che sarà la scheda che andrei ad acquistare. Torniamo su, dopo averla selezionata e passiamo al successivo componente. In questo caso questo sito ci fornisce un eventuale aggiornamento del BIOS della scheda madre, ma per il momento andiamo avanti. Ora la volta delle RAM. Come sempre andiamo ad individuare una 4 GB. In questo caso avremo da scheda tecnica una DDR3 con velocità a 1,333 MHz, quindi 1333 Hz. Tutto sommato va bene, selezioniamola e andiamo avanti. E' la volta dell'hard disk. Guardando la capacità di memoria andiamoci ad individuare ad esempio un hard disk interno da 1 TB. Questo non è disponibile. Questo potrebbe essere disponibile. Ecco qua, 1 TB. Andiamo a vedere le caratteristiche. E' un SATA 2 per cui va più che bene. La capacità di memoria è quella che volevamo, quindi selezioniamolo senz'altro e passiamo al successivo. Questo specifico upgrade non lo selezioniamo. In questa pagina ci viene riportata nuovamente la possibile selezione di un secondo hard disk se ci necessita, ma andiamo oltre. In questa pagina sono rappresentati accessori degli hard disk, quindi non ci interessano in questo momento. Ora andiamo a visionare la nostra scheda video. Cerchiamoci sempre una scheda video che presenta almeno 1 GB di RAM integrata. Questa scheda grafica è una PCI Express 16x della marca ADI, quindi possiamo chiuderla tranquillamente. E dopo aver visto che presenta 1 GB di memoria integrata, la selezioniamo e passiamo avanti. Possiamo in qualsiasi momento visionare lo status del nostro configuratore. Cliccando sul pulsante visualizza la configurazione. Qui avrai evidenziato ciò che avrai selezionato fino a questo momento e il prezzo parziale. Quindi proseguiamo nella scelta dell'unità ottica. Ci prendiamo un masterizzatore normale senza andare nella sezione Blu-ray disk. Un masterizzatore DVD disponibile. Ecco qua, 23 euro. Possiamo selezionare tranquillamente questo. Andiamo avanti. Se ne vogliamo selezionare ancora un altro, possiamo farlo da questa ulteriore pagina. Ora il nostro cabinet. Questo cabinet, questo è il cabinet che andremo ad acquistare. Infatti avremo la possibilità di alloggiare una scheda madre ATX o micro ATX con la necessità di acquisire anche un alimentatore esterno, perché non è presente all'interno di questo cabinet. Possiamo selezionare tranquillamente, passare al successivo e quindi selezionare il nostro bel alimentatore. Possiamo accettare quello che ci fornisce il sito. Dalla scheda tecnica troviamo la caratteristica di questo alimentatore, un ATX a 600 Watt, per cui va più che bene, passiamo oltre. Se non servono accessori per il case, passiamo avanti. Vogliamo comprare eventuali ventole aggiuntive, le possiamo inserire tranquillamente. La scheda audio possiamo benissimo lasciarla da parte e quindi non selezionarla in questo momento, perché la scheda madre ha già una scheda audio integrata. Comunque per sicurezza andiamo a visionare lo status del configuratore. Ecco la scheda madre e qui troviamo evidenziata la presenza dell'audio integrato. Quindi passiamo oltre. L'assemblaggio, come abbiamo visto nei precedenti configuratori, ce lo risparmiamo. Passiamo oltre e qui addirittura possiamo scegliere se farci spedire il PC con un imballaggio rinforzato al prezzo di 4 euro. Tutto sommato possiamo accettare di buon grado la scelta del sito e andiamo adesso a vedere la nostra bella configurazione completa. A questo punto è terminato la selezione di tutto il tuo PC, come puoi ben vedere è completo in ogni sua parte. Il prezzo totale che abbiamo visto è di 377 euro, ad oggi è molto competitivo. Al termine potrai premere il pulsante precedente per cambiare qualche componente che avrai già selezionato oppure cliccare sul pulsante ricomincia il wizard per cominciare una nuova configurazione. Buon lavoro! Bene, in ognuno dei configuratori che abbiamo trattato in genere dovrai e potrai selezionare anche il sistema operativo ed eventuali altri software da installare sul tuo PC. Se lo desideri, seleziona anche il prezzo per l'assemblaggio del computer, ossia il montaggio, per risparmiarti questa opzione, come avevamo detto in precedenza. Ma questo è un altro discorso e comunque ce lo facciamo da soli, vero? Guder, più avanti arriverà anche questo momento. Nella descrizione potrai continuare per qualche altra migliaia di parole per i configuratori presenti in rete, ma penso sia più che sufficiente come opera rilevatrice di questi strumenti. Nella scelta ho escluso a scopo semplificatore quelli che non filtrano in maniera molto precisa i componenti, perché sei solo all'inizio, ma con un po' di pratica e soprattutto se vorrai potresti riuscire a configurarti un PC anche sfruttando i configuratori un po' più difficili da gestire, ma sempre straordinariamente preziosi. Personalmente la filosofia di semplificazione mi porta a dirti che non vedo la necessità di utilizzare un prodotto o servizio un po' più ostico se ciò non aggiunge un gran bel valore a fronte di altri più semplici. Comunque, non lasciarti condizionare più di tanto dai miei modi di vedere. L'accesso alla cultura ha un percorso personale e non definito sulla carta. È quindi soggettivo, non oggettivo e la scelta finale spetta solo a te. Dopo questo fiume di parole, mi aspetto nella peggiore dell'ipotesi un bel Carlo, non ho capito granché di quanto è scritto. Invece, nella migliore dell'ipotesi, potresti aver compreso per grandi linee, ma non saresti certo in grado di riuscire a creare la tua configurazione. Il motivo sai qual è? Semplicemente perché ancora non conosci il significato di certe sigle. Rispondo rifrancandoti che a questo punto è abbastanza normale, visto che il tuo percorso è iniziato soltanto da poco. Allora che farne? Lanciati nella sfida e divertiti esercitandoti più volte nel creare varie configurazioni complete, cambiando i componenti con marche e modelli e soprattutto testando con le due differenti famiglie Intel ed AMD. Ciò ti permetterà di capire le sfumature tra le varie famiglie, comprendendo la differenza tra le sigle dell'una e dell'altra. Per semplificarti l'acquisizione della procedura, seleziona una marca di processore per Intel ed una per AMD, anche o meglio se la marca del processore è della stessa azienda produttrice. Confronta quindi le differenze delle sigle per le due famiglie. Poi, scegli una nuova marca di processori e ripeti il processo. Dopo aver compreso più o meno le sfumature, passa alla scheda madre e ripercorri il percorso di comparazione tra le varie marche, relazionate sempre alle due famiglie di costruttori Intel e AMD. Questa attività ti richiederà un bel po' di tempo, un bel po' di impegno nel testare, ma se decidi di applicarti con costanza, comincerai ad ottenere delle belle gratificazioni in termini di conoscenza. Ricorda, non devi creare una configurazione per acquistare il tuo PC, ma solo prendere fiducia e conoscenza dei configuratori. Quando sarai competente, allora deciderai di lanciarti nella configurazione finale d'acquisto per te o per qualche tuo conoscente. In quest'ultimo caso, avvertirai una grande soddisfazione quando aiuterai qualcuno a superare questo gap. Ancora maggiore sarà se condividerai ed insegnerai questo piccolo trucco alle persone della tua cerchia. Ce l'hai fatta. Il primo passo per trasformarti in un dominatore di computer è compiuto. Bravo, Kutler. Nella prossima lezione vedrai come e dove acquistare un computer. Ora un forte saluto. Ciao presto da Carlo e dalla prossima.